Certo che è una tragedia che ci è piombata nel cuore della notte, i soccorsi come vedo sono veramente efficienti e sono stati tempestivi, sicuramente è una tragedia che per noi è veramente importante, cerchiamo adesso noi per quanto ci compete perché sono presenti i vigili del fuoco, il Croce Rossa, il magistrato e i carabinieri sia di Chivasso, Ivrea e Torino e noi cercheremo di fare il punto fra mezz'ora per quanto riguarda la viabilità perché questa è una strada ad alta percorrenza e che quindi domani mattina dalle 6 in avanti dobbiamo trovare il sistema, sarà chiusa per qualche giorno quindi dobbiamo trovare il sistema di dirottare il traffico sia leggero che pesante.